rivista appunto politico, allora c'era questa partecipazione anche ai temi della politica nazionale, praticamente c'erano questi gruppi così spostati a sinistra del PC, dove molti al liceo scientifico frequentavano questi ambienti dove si parlava di politica, di rivoluzione, di stortura del sistema e di tanti desideri di poter cambiare certe situazioni anche nell'oppressione che si sentiva proprio a scuola in quel periodo, cioè questa specie di ghettizzazione tra sessi, il fatto che le scuole, cioè le classi erano praticamente, non erano miste all'inizio, c'era la separazione tra maschi e femmine, tutte queste cose, poi una certa disciplina e quindi anche questa cosa qui ci portava ad impegnarci a frequentare anche questi ambienti dove si faceva politica non solo. Diciamo che nel 1974 quando scoppiarono le bombe il liceo scientifico secondo me fu un po' l'inizio di questa reazione, praticamente proprio perché c'erano questi gruppi più o meno organizzati che hanno preso poi in mano la situazione, anche l'organizzazione dei turni di vigilanza che all'inizio non hanno interessato un grande numero di persone, poi con la seconda, la terza bomba, le cose sono cambiate, si è cominciata ad essere una partecipazione anche spontanea alle manifestazioni, ai cortei, tutte quelle forme così di reazione che ci sono state in città. Però devo dire che proprio ricordo la grande manifestazione, quella che certi dicono 20.000, 30.000, sicuramente c'era un bel po' di persone, mi ricordo che quando siamo passati con lo striscione del liceo scientifico, cioè anche tutte le persone che erano lì, c'è stato un applauso spontaneo proprio perché si riconosceva proprio questo inizio così della reazione all'interno della scuola. Turni di vigilanza ne ho fatti parecchi, mi ricordo particolarmente quello subito dopo la bomba del 20 novembre dove c'è stata l'unica vittima di questa serie così di attentati dove ho compiuto gli anni e abbiamo fatto una piccola festicciola con una tortina portata alla casa e con la partecipazione di tutte queste persone che erano in turno con me, ma anche di tutta una parte della popolazione che viveva nei pressi del liceo che tutte le sere veniva a portare il caffè piuttosto che bevande calde o panini perché comunque eravamo appoggiati anche da persone che magari non partecipavano in prima persona ma che ci facevano sentire comunque il loro sostegno e devo dire che questo è stato molto molto importante, anche perché comunque essendo novembre diciamo che ricordo facesse abbastanza freddo. Praticamente io abitavo dalle parti del palazzo del governo della prefettura e questo mi permette di ricordare con una certa lucidità la bomba del febbraio del 75 perché poi c'è stato un momento di pausa e poi sembrava che questo fenomeno dovesse riprendere proprio perché io ero in casa, mi ricordo, ero al telefono mio compagno di scuola e ho sentito proprio lo scoppio e ho pensato che si riprendesse nuovamente diciamo la storia dei turni di vigilanza eccetera che nel frattempo erano stati interrotti e invece era praticamente l'ultimo, eravamo all'ultimo atto se non al penultimo però lo ricordo veramente molto bene. diciamo che quello che potrei dire pensando oggi a quel momento che mi aveva sorpreso molto il fatto che noi giovani comunque abbiamo preso questa nostra reazione eccetera, non dico come un gioco perché non è così però in maniera sicuramente molto più leggera di quello che invece non provassero i nostri genitori o le persone di una certa età che avevano vissuto la guerra, cioè nel senso che per loro la bomba sicuramente aveva un significato molto più, diciamo loro erano molto più preoccupati di quanto non lo fossimo noi. che era un clima molto pesante anche perché ricordo che c'era praticamente c'era stato un aumento delle forze di polizia, carabinieri, erano venuti reparti anche da altre province e da altre regioni, cioè Savona in quel momento era un pochettino sotto i riflettori diciamo così, è diventato un caso nazionale naturalmente su tutti i telegiornali eccetera e c'era proprio questo clima pesante, però devo dire che tutte le persone comunque collaboravano e cercavano di collaborare con le forze dell'ordine cercando di non circolare troppo con le macchine, cercando di seguire certe regole, quindi praticamente la popolazione ha risposto anche in quello, quindi capivano che questi disagi erano comunque necessari. Ecco, io comunque trovo tra l'esperienza delle bombe e la nascita della radio praticamente l'anno dopo con le prime trasmissioni così sperimentali un nesso che è quello di avere forse pensato a quanto sarebbe stato utile comunque avere una radio in una situazione come quella delle bombe, cioè avere un modo di poter comunicare con gli ascoltatori e di dare anche alla radio forse una valenza utile anche per certi avvenimenti così importanti o nefasti come l'epoca delle bombe. Per quello che mi ricordo io anche la radio nasce a liceo scientifico perché la persona che tecnicamente l'ha portata avanti perché secondo me pur essendo più giovane era più avanti di noi per le conoscenze tecniche e l'ingegnere Sandro Zapatore che comunque poi ci ha assistito per tutti i 40 anni della storia di Radio Savona Sound e ne ha fatto parte. Direi che la radio nasce perché si crea uno spazio che prima del 1974 non c'era in quanto c'era un monopolio molto pesante in Italia da parte della RAI del sistema radio televisivo, c'erano mi ricordo forse due canali radio e due canali tv e questo monopolio impediva la formazione di radio libere. Quando cade questo, diciamo così, quando la Corte Costituzionale dichiara illegittima questo monopolio cominciano a nascere le radio e le tv private. Direi in maggior parte radio perché l'investimento sicuramente era più abbordabile di quello che non fosse l'investimento economico per mettere su una televisione e quindi abbiamo passato questa stagione diciamo così pirata, questa stagione illegale dove ci spostavamo in continuazione, trasmettavamo nei posti più impensabili, mi ricordo soffitte o scantinati, magazzini, garage e ci spostavamo in continuazione perché pensavamo di correre dei rischi. Col senno del po' io credo che alla fine questi rischi erano sicuramente minori di quello che pensavamo anche perché non c'è stata una repressione di questo fenomeno in quanto avessero voluto ci mettevano ben poco a fermarci, specialmente mi ricordo un episodio quando siamo entrati con interferenza nella torre di controllo dell'aeroporto di Genova, a quel punto lì avessero voluto avrebbero bloccato tutto e poi come spesso succede in Italia invece è arrivata prima la regolamentazione da parte della Corte Costituzionale nel 1976, a quel punto la radio esce dalla clandestinità, ci diamo un assetto più o meno anche giuridico, noi decidiamo di fare una cooperativa, cambiamo il nome da Radio Savona Libera a Radio Savona Sound, è un marchio che poi è durato per 40 anni. Direi che forse la parola chiave è condivisione perché allora si condivideva praticamente la musica si condividevano i dischi perché poi anche questo era un altro problema, la musica la trovavi soltanto se l'acquistavi perché non potevi naturalmente scaricarla da nessuna parte ma anche acquistare certa musica non era facile perché certe cose non si trovavano quindi o avevi la fortuna magari di qualche parente che aveva fatto un viaggio in Inghilterra piuttosto negli Stati Uniti che magari ti portava l'ultimo album di Bob Dylan, piuttosto che i Beatles, i Rolling Stones eccetera e che comunque poi si portavano a radio e tutti potevano usarli e potevano trasmetterli quindi diciamo che si condivideva praticamente un pochettino tutto. Mi ricordo che i programmi forse più ascoltati allora proprio per questa fame di musica erano quelle di dediche nel senso che le persone tramite telefono telefonavano per richiedere dei brani ma in realtà poi per registrarli perché era un modo comunque per avere un pezzo e non doverlo andare per forza ad acquistare anche perché poi le diciamo così le possibilità economiche che allora non erano non erano poi molto non ci permettevano di poter spendere mi sembra che un LP costasse 3500 lire tieni conto che un pacchetto di sigarette mi sembra che in quegli anni costasse marche magari italiane sui 300 300 400 lire più o meno la proporzione era che comprare un album non era semplice. Noi facevamo praticamente delle trasmissioni non più di due per volta assolutamente anche perché dovevamo coprire poi dei turni quindi diciamo che cercavamo di dividerci anche magari con persone che avevano già una certa affinità magari a scuola col compagno di banco o piuttosto con quello che aveva più dischi però già dall'inizio abbiamo fatto facevamo tutto sia la regia che che la conduzione io credo che a radio samona sound il fenomeno del regista è stato risolto poi con gli anni ma ancora fino all'ultimo quelli di noi che avevano iniziato in quegli anni hanno continuato a farsi la trasmissione da soli quindi praticamente ti facevi sia regia mettevi il disco lo preparavi e poi lo commentavi e parlavi cioè era una trasmissione praticamente più di un uomo solo che che come si fa oggi magari in due o tre persone praticamente comunque anche lì c'era una partecipazione da parte degli ascoltatori sia con telefonate ma non solo per le dediche a volte facevamo delle piccole tavole rotonde così su certi problemi non poteva essere non so una trasmissione a tema dove gli ascoltatori partecipavano intervenivano commentavano e devo dire che c'era molta partecipazione questo più o meno ti serviva come termometro per quello che poteva essere poteva essere l'ascolto e se teniamo conto che però allora a savona c'erano qualcosa come 7 8 radio diciamo che poi tutto questo grande ascolto ce lo dividevamo c'erano radio che erano più improntate verso l'informazione oppure più politicizzate altre che erano più sulla musica straniera altre che facevano più musica italiana però diciamo che c'era una grande partecipazione un grande ascolto credo che oggi non sia così la radio comunque mantiene un buon livello d'ascolto ma credo che negli anni 70 avesse raggiunto un livello molto molto più alto non abbiamo conservato colpevolmente un sacco di cose cioè avevamo anche l'esigenza magari di riregistrare sui nastri sulle cassette proprio per per problemi economici magari registravamo un sacco di cose dopo c'era un intervista che magari andava tenuta e non l'abbiamo tenuta forse proprio per il fatto che non pensavamo di andare così lontano e di avere poi bisogno un giorno di avere di avere una storia credo che siamo stati molto incoscienti in questo perché se penso a quello che oggi avremmo potuto magari anche mettere a disposizione delle nuove generazioni di tutte quelle cose è rimasto molto poco qualche trasmissione ma ma pochissimo racconto un aneddoto che mi ha praticamente coinvolto e qualche anno fa ho trovato in casa una cassetta dove c'era un'intervista a fabrizio de andrea un'intervista fatta nel 1984 e poi persa in un cassetto la tiro fuori e la faccio ascoltare a un amico scrittore e mi dice ma guarda che qua c'è una una intervista che ha veramente un valore ci potremmo fare qualcosa potremmo farne un libro e lui era morto da penso due o tre anni ed era un'intervista inedita perché non era mai andata in onda forse in qualche frammento nell'84 quando l'avevamo fatta e così è uscito un libro su creosa de ma fabrizio de andrea proprio da una da una intervista ritrovata io penso a quante cose abbiamo fatto in tutti quegli anni a cosa avremmo potuto fare invece abbiamo rimosso e cancellato un sacco di cose io credo che il fatto di aver continuato a fare radio in questi anni sia ci ha dato diciamo così modo di vedere il cambiamento tra le varie generazioni che abbiamo poi attraversato nei vari decenni anche il cambiamento del gusto musicale piuttosto che del modo di fruire della radio diciamo così la nascita della rete la nascita dei social tutte cose che comunque devo dire e non hanno scalfito il mezzo radio perché credo che la radio sia poi in definitiva rimasta quella che era all'origine è il mezzo che è cambiato di meno si serve sicuramente come supporto di tutte queste nuove questi nuovi media questi nuovi modi di fare musica di fare comunicazione penso al podcast tutte queste cose qui però in fondo è rimasta quello che era io credo che la radio avrà sicuramente ancora un grande futuro e spero che i giovani quelli che oggi vanno a scuola che hanno l'età che avevamo noi quando abbiamo iniziato continuino a fare radio o comincino a farla perché credo che sia una cosa veramente interessante e affascinante